ho avuto una brillante idea sono le 23 e 40 ti va un video all shopping o mai siamo tutte americane ti va un video all shopping? andiamo a fare shopping gastronomia? no c'è già un video all shopping significa che noi facciamo vedere il nostro shopping ai nostri follower ma che ci interessa? ci interessa picchietto a busta ragazzi volete vedere cosa oggi abbiamo raccattato? shopping gastronomia va bene se volete vedere seguiteci facciamo questo video all shopping alle 23 e 40 perché solo noi ovviamente possiamo farlo solo a quest'ora l'all shopping va bene va sei pronto per l'all shopping no il tuo primo video shopping ragazzi siete pronti scelto lo shopping del conto sarà tutto scelto ma sicuramente volete sapere anche dove li ho comprati ma ve lo dirò alla fine alla fine con una bella sorpresa va bene cosa hai preso vediamo sempre i tuoi ghiacca bellissima questo è bellissima quando ti è costato a chi ti vuole sapere ma quello prezzo no vabbè prezzo no vabbè va bene andiamo avanti ma non è che può durare settori sul shopping però poi si unghiono bella una coppia di asciugamano più l'ospite verde bella perché in verde ti piace a te vera amossi ci piace a me poi ho comprato un altro colore naturale ma chissà non è a due ma è una questo è una ma che è il viso che è il viso bella potete avvolgere anche qua con il colmellino ai fianchi ma hai tutto acquistato ma ho raccattato ma non sono problemi che hai accettato a nessuno va bene è un all shopping scelto scelto io ti mando delle mollette colorate perché è verde si accoppia a te viola penso di metterlo qua poi verde come la tovaglia ragazzi lui fa uno shopping scelto poi certo le spugne per quale sono quindi per il lavare mio no per la mamma sì per la varietà carina ah che sono per i piatti bella c'è tutta colorata c'è anche il sole e piatti ah il sole e piatti per lavare i piatti bella candeggina scelto acce che ci vuole poi ho preso anche lo svelto power spray che è spettacolare ma come ti stai trovando ma questo perché lo vendono da poco benissimo una meraviglia poi poi le belle mollette per chiudere la bocca alle persone che parlano assai allora di chi si andava a cantare una cinquantina a meno vediamo come vi state ecco sono barretti poi guardate con te cose ragazzi anche voi fate shopping così che è a bagno seta chissi per le mie carni ragazzi perché sono delicato vedete queste all'olio di jojoba questo è all'olio di argan set e questo all'olio di mandorla tutta all'occhio è che era pellicola per avvolgere le mummie e l'alluminio alluminio scelto poi ho comprato il sale ma no basta ma la pastoviglie intanto bisogna averlo se non lo vende col corretto bisogna anche il bril che questo da brillantezza ai cristalli e ai bicchieri ma non hai i bicchieri di cristallo ma se tu ce l'hai di vetro scarso poi la terma ah questa è la mia linea ma questo ragazzi vi consiglio questa linea della nivea che è fantastica infatti a momenti picchieri di possetti prodotti guardate questo è il detergente questo è il tonico questi dei guanti picchieri suggeriti e scelta guardate quante cose ragazzi secondo voi quanto ha speso chi sembra meglio questa è un'altra credenza della stessa linea poi ho preso questo che chiara schizzi della caffettiera e ora ti faccio una bella domanda si spiegati che è figlio a te con tutti questi acquisti mi hanno regalato la caffettiera in omaggio dei morti di fame quindi dove ho acquistato questi ti visti nei parenti di clarissa da shop a giare da shop io in quel momento sono entrato come follower dei morti di fame e che c'entra se sei tu morto di fame e dico a parenti da pro nipote ronzo pippo mi disse ma se sei tu morto di fame ci sei morto di fame ci sei tu devi dare la caffettiera ma questa ne diamo i follower senti morto di fame ci sei tu sono un follower di me stesso vabbè questa la ricevete al regalo quindi questa non l'hai pagata al sicuro no però mi sono fatto regalare il paraschizzi ah quindi tutto questo l'hai pagato però scelto vabbè ma è finito questo all shopping è finito basta finito ragazzi non puoi essere di queste non ce n'è più che ne avevo preso di più questi per gli erodati a clarissa quando si rinnova un poco ci sta cascando a peggi va bene il nostro primo video di all shopping è finito è piaciuto non lo sapevo è piaciuto lasciamo giudicare a loro se gli è piaciuto va bene a questo punto io ho visto fare tanti video di all shopping a questo punto tu devi dire nello specifico quanto è spesso per ogni prodotto andate dai parenti di clarissa dalla buonanima di rozzio pippo assicuro che non c'è più niente e io ho risparmiato per una cosa anzi due cose una perché mi hanno regalato la caffettiera dei follower ma non c'entra tu non puoi essere follower di te stesso io ho pagato le buste per mettere queste perché mi sono portato la busta già da casa fino a roteco di buttarsi la persona da mappotturo dell'emd poi dell'eurospin dell'eurospin del centesimo va bene lanciamo questo sondaggio secondo voi quanto ho speso il conto per tutto questo scrivetelo nei commenti picchipimia comunque caccia e bollett di queste mancano di queste ne manca una manca un detergente di questo perché ne avevo presi due a questi qua ragazzi noi ve li straconsigliamo costano un botto ma quali botto un botto a si reggì quattro euro quanto costo tre euro e due tre euro e due vabbè comunque costano ragazzi ma per tipo per chi ha le carni delicate come le mie sono ottimi i fatti da caffè bella spugnetta basta va saluta saluta con questo vi potete fare anche lo sciamo proprio primo video di all shopping all sceno bottiglia proprio vabbè va ragazza ciao baby ciao bebi Sìììì!